Dicevamo la tua voglia di venire in una seconda categoria per un giovane come te è sempre difficile. Di le tue sensazioni ma soprattutto chi ti ha trasmesso questa voglia di venire in questa società. Ringrazio il presidente Menzi e il direttore Pelle che hanno creduto in me. Nonostante i 17 anni che tengo per me è un'emozione giocare in questa squadra, creare gruppo, fare amicizie nuove e puntare molto in alto per questa squadra. Grazie e buona domenica.